Stiamo cercando di fare quello che ci chiede il mister e poi se arriva i gol è un'altra soddisfazione in più. Speriamo di allenarci bene per affrontare il meglio questo campionato durissimo. A voi Starni Sannino chiede davvero tanto? Sì, chiede tanto anche perché ci sono solo due centrocampisti, quindi dobbiamo stare stretti, attaccare e anche difendere. Se no lasciamo in mezzo solo i due centrocampisti e soffrono. Il calendario che è uscito come ti sembra? A Parma nella prima contro Cassano e poi Napoli in casa? Tutte le partite in Serie A non puoi dire che questo è facile, questo è difficile. Tutto è difficile, quindi sia che Parma prima, Napoli secondo oppure Napoli prima e Milan secondo è sempre uguale. Dobbiamo solo impegnarci e far bene per ottenere i risultati. Grazie. Grazie.